Mentirei se dicessi che Bluetti EP500 Pro è un prodotto per tutti quanti. Si tratta infatti di una power station con 5100 wattora di autonomia e fino a 6000 cicli di ricarica pensata per sostituire l'impianto elettrico domestico in caso di blackout oppure altre situazioni d'emergenza un pochino particolari in modo da poter alimentare elettrodomestici come frigorifero tv e così via appunto quando altrimenti il nostro sistema di casa non funziona. Sull'altro piatto della bilancia ci sono però un peso di quasi 90 kg e soprattutto un prezzo di 5400 euro che lo rendono adatto veramente soltanto a chi cerca quel tipo di prodotto per esigenze molto specifiche. Tra l'altro dicevo il peso è estremamente elevato, è vero che ha delle rotelle però diciamo che se ce l'avete in casa con queste rotelle potete trasportarlo in giro però è talmente massiccio che è impensabile da utilizzare ad esempio per delle gite fuori porta in macchina. È veramente pensato per essere preso, messo in casa e quando serve utilizzato. Come dicevo la power station bluetti ha una capienza davvero molto importante e l'idea è quella di utilizzarlo un po' come gruppo di continuità. Come? Si può fare in diversi modi. Diciamo che l'ideale sarebbe creare una sorta di sottoquadro elettrico che in caso di blackout oppure altre esigenze entra in funzione e utilizza l'energia accumulata all'interno della bluetti e p500 pro per alimentare il frigorifero eventualmente il riscaldamento elettrico, i fornelli, ad esempio le telecamere di sicurezza insomma tutti quegli elettrodomestici che riteniamo fondamentali e che anche in un periodo di emergenza vogliamo assolutamente tenere attivi. Ci sono però anche altri possibili utilizzi, io ad esempio ho provato semplicemente a staccare la corrente di casa connettere a una qualsiasi presasciuco della casa la bluetti ed effettivamente funziona proprio come se fosse un gruppo di continuità in quel caso che alimenta tutto quello che c'è in casa per un periodo di tempo più limitato, dipende da quello che si attiva però comunque funziona e in certe situazioni può tornare utile. Altrimenti ancora può essere un gruppo di continuità specifico su determinati elettrodomestici ad esempio avete un server che assolutamente volete che resti in funzione sempre e costantemente utilizzate la bluetti per farlo. A questa grande capacità si unisce anche una versatilità veramente molto importante perché bluetti 500 pro ha fino a 5 porte AC da 120 volt ma anche delle prese ad esempio quelle dell'accendisigaro oppure quelle RV che permettono di ricaricare dei piccoli veicoli elettrici ad esempio delle biciclette elettriche ma anche tutta una serie di connettività che guarda il mondo degli smartphone, dei tablet dei notebook tra cui due prese wireless da 15 watt che comunque possono tornare utili sono in cima alla bluetti quindi basta appoggiarci ad esempio lo smartphone sopra e ricaricano due USB-A ma soprattutto due USB-C fino a 100 watt che comunque sono molto utili qualora vogliate ricaricare anche i notebook. Insomma l'idea è quella di in caso di emergenza poterlo utilizzare per tenere attivi gli elettrodomestici vitali all'interno della casa oppure insomma del luogo in cui ci troviamo un ufficio o qualsiasi altra cosa ma anche di poter ricaricare i propri dispositivi portatili quel tanto che basta da poter insomma comunicare e non rimanere mai senza. Per quanto riguarda la ricarica ovviamente la si può ricaricare attraverso una qualsiasi presa la corrente se volete avete la possibilità potete ricaricarlo attraverso un generatore di energia elettrica qualsiasi esso sia ovviamente c'è anche la possibilità di caricarlo attraverso dei pannelli solari in ingresso fino a 1200 watt il che si traduce in circa 5 ore per caricare completamente la bluetti p500 pro potete anche utilizzare un sistema misto quindi potete ad esempio ricaricare questa enorme power station in parte con i pannelli solari e in parte con un'altra fonte di energia la corrente elettrica quello che vi pare. Noi ad esempio di recente abbiamo provato dei pannelli bluetti pv350 che hanno dalla loro ad esempio un'efficienza molto alta del 23.4 per cento quindi diciamo dell'energia solare che ricevono riescono a catturarne a trattenerne e quindi poi convertirne il 23.4 per cento che è una percentuale molto alta un'alta efficienza sono i p65 e comunque permettono di accumulare o utilizzare energia in maniera estremamente virtuosa. Chiaramente si tratta di pannelli portatili con tutti i benefici e i contro del caso rispetto a quelli che ad esempio sono installati normalmente sul tetto però per chi vuole oppure non può installare una soluzione fissa sono certamente una buona opzione. Noi abbiamo provato a utilizzarli dal 31 luglio al 6 agosto quindi per circa una settimana e hanno generato in totale un'energia netta di 8 kilowattora quanto necessario ad esempio per riscaldare l'acqua calda sanitaria per una settimana oppure gestire il sistema di raffreddamento e riscaldamento per una casa di due piani per circa un giorno oppure per un appartamento un pochino più piccolo per due giorni. Insomma degli ottimi pannelli non fissi per chi cerca una soluzione un pochino più agile magari ad abbinare proprio a un prodotto come la bluetti epi 500 pro. Tornando proprio sulla batteria all'interno troviamo un inverter onda suinositale pura da 2000 watt il che ovviamente è una garanzia perché quando lo utilizziamo nella nella sua funzione diciamo di base quella per cui è stato pensato quindi salta la corrente di casa ed entra ad alimentare elettrodomestici come il frigorifero avere questo tipo di inverter ci permette di avere intanto delle performance costanti paragonabili quelle della rete elettrica e soprattutto evitare dei guasti insomma altri tipi di problematiche. Chiaramente è un po' difficile dirvi in base alla configurazione domestica o di un ufficio che voi avete quanto durerà questa batteria però diciamo che con 5100 watt ora sicuramente potete utilizzare o tutta casa per alcune ore oppure determinati elettrodomestici come detto che magari avete selezionato a monte per diverse ore senza dovrevi preoccupare insomma di quando torna l'elettricità. Dipende un pochino da per cosa lo utilizzate chiaramente se vi mettete a usare il phone e degli split per l'aria condizionata è diverso rispetto a se utilizzate soltanto dei fornelli elettrici e il frigorifero di casa. Per quanto riguarda la gestione di tutto questo sistema avete fondamentalmente due possibilità che in realtà vanno un pochino a braccetto perché Bluette EP500 Pro presenta un pannello touchscreen frontale che vi permette di selezionare e gestire in maniera molto semplice e molto precisa tutte quante quelle che sono le opzioni del prodotto. Bisogna dire che ci sono due punti da fare. Uno non c'è la lingua italiana c'è soltanto l'inglese e il tedesco almeno nelle versioni quelle che abbiamo provato noi. D'altra parte il touchscreen non risponde sempre benissimo se siete abituati a un qualsiasi tablet o smartphone troverete magari un po' di latenza in più bisogna dire che per quelle che sono le opzioni e la navigazione interna a un sistema del genere non è necessaria chissà quale reattività però comunque fa un pochino impressione non è velocissimo. L'altro sistema per controllare questa power station è utilizzare l'app Bluetti l'associazione tramite bluetooth wifi è molto molto semplice ci vuole pochissimo associate il vostro telefono alla power station tramite bluetooth e poi vi connettete con l'app direttamente al wifi di casa. A quel punto potete controllare le funzioni principali soprattutto potete scegliere la modalità di utilizzo che più fa per voi ad esempio se la volete utilizzare come gruppo di continuità standard se volete attingere soltanto alla corrente che eventualmente viene generata dai pannelli solari e così via. È un'app essenziale non ha niente che non sia necessario a parte due animazioni però devo dire che quello che lo fa lo fa bene sicuramente la troverete molto utile. Insomma in definitiva com'è questa Bluetti EP500 Pro? È un prodotto come detto subito all'inizio molto particolare ha diversi vantaggi questa capienza enorme specifiche tecniche comunque molto buone che vi permettono di utilizzarla per gestire i vostri elettrodomestici qualsiasi cosa necessita di elettricità all'interno della vostra casa senza pensieri e soprattutto senza rischi tra l'altro ha un paio di accorgimenti molto interessanti ad esempio la batteria non è soltanto molto capiente ma hanno utilizzato batterie litioferro fosfato il che permette una maggior durevolezza e poi sarà anche certamente più agevole e green da smaltire diciamo così. D'altra parte i contro sono ovviamente legati al prezzo al peso come abbiamo detto all'inizio si tratta di un prodotto che non è pensato come altri per essere un compagno di viaggio per magari le gite fuori porta o anche viaggi in camper o con altri sistemi un po' più lunghi. Questo è un prodotto che voi pensate di mettere in casa e lo tenete lì in caso di emergenza in caso di necessità insomma quello poi lo decidete voi però è molto specifico per determinate esigenze anche perché è un prezzo di 5.400 euro che possono raddoppiare perché due bluetti più i 500 pro possono essere messe insieme per generare un gruppo di continuità ancora più sostanzioso chiaramente sono cifre davvero molto importanti per cui bisogna essere estremamente motivati avere delle ragioni molto specifiche per volerle comprare. Io comunque vi invito a guardare il sito per la recensione completa tutti i dettagli tecnici sul prodotto e ovviamente come sempre se volete lasciare un like e iscrivervi nel canale fatelo ma potete anche commentare fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono Umberto al prossimo video ciao